si è concluso l'importantissimo consiglio comunale sulla vicenda alta velocità il consiglio ha fatto proprio il documento sottoposto dal comitato civico 1987 che chiede al governo e a rfi di includere anche sapri nella costruenda nuova linea di alta velocità e da alta capacità lo scrive il sindaco di sapri antonio gentile sulla sua pagina facebook un atto politico su una questione di vitale importanza per la crescita e lo sviluppo del territorio il provvedimento che si aggiunge agli altri atti già prodotti in tal senso dal consiglio comunale dalla giunta municipale non che alle tante attività portate avanti con altri sindaci nei mesi scorsi presso le sedi istituzionali proposte sarà inoltrato agli altri comuni e alle comunità montane che insistono sul territorio per le rispettive adozioni e sarà oggetto di un'assemblea pubblica che si terrà in città entro il termine di dieci giorni consapevole certo dell'importanza dei comitati civici nonché delle risoluzioni a livello istituzionale ho annunciato al consiglio che se nello stesso termine le istituzioni competenti e di riferimento non daranno risposte concrete e serie continua il sindaco per le vicende alta velocità e ospedale di sapri inizierò come estrema azione di protesta civile lo sciopero della fame e poi sottolinea a tal proposito accolgo con piacere l'adesione alla protesta da me annunciata del capogruppo di sapri democratica non molliamo un centimetro e lottiamo insieme per i della città conclude il primo cittadino